Il Signore ci invita a vivere nell'umiltà, questo significa avere rispetto dell'altro. Così padre Francesco Mazzotta, rettore del Santuario Dioniano del Santissimo Salvatore di Andrea, durante l'omelia nella celebrazione eucaristica di ieri pomeriggio. Ascoltiamo. Quello che vive nella logica del Vangelo si deve mettere sempre dalla parte dell'ultimo. E bisognerebbe davvero pensare a che cosa siamo chiamati a fare. Perché i valori del Vangelo sono valori eterni, sono valori che valgono sempre. Questo insegnamento del Signore che ti dice abbassa la cresta, abbassa la cresta, è un atteggiamento che ci invita a vivere nell'umiltà. E per vivere nell'umiltà significa che devo avere rispetto per l'altro, soprattutto per quello che non ce la fa camminare con le sue gambe. Non c'è altra possibilità. Altrimenti sono cristiano di facciata, altrimenti il mio venire in chiesa e pregare non serve a nulla. Allora bisogna cambiare l'atteggiamento, bisogna cambiare il modo di fare, bisogna anche cambiare il modo di parlare. Aprire un po' la mente, aprire gli occhi, aprire le orecchie, aprire soprattutto il cuore, perché dalle parole che Cristo ci lascia possano derivare degli insegnamenti concreti per come vivere nell'oggi con le persone che incontro quotidianamente.